Noi oggi vogliamo proprio con la nostra presenza, con la nostra preghiera, con la nostra preghiera, con la vostra fortuna, dovete vivere, essere nell'amore. Ecco chi sono gli sposi, chi siete voi oggi, chi diventate voi oggi, un cuor solo, un'anima sola. Vi siete piaciuti e avete deciso di intraprendere, a completare nell'amore la vostra unione. Sarete uniti per sempre, proprio dalla vostra volontà di unirvi nel vincolo matrimoniale. Sicuramente ci sarà e c'è, perché il Signore anche si impegna, anche lui, a benedire con la mano di Dio la vostra unione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti